Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di una nuova notizia di calciomercato che riguarda il nostro amato Lecce e sono molto felice di annunciarvi che il Lecce appunto ha acquistato a titolo definitivo Marin Pongracic, difensore classe 1997 che è stato con noi l'anno scorso in prestito. Prima di cominciare ovviamente vi invito a lasciare tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e fatemi sapere con un commento la vostra su questa notizia, il mio modo di vedere è fantastica. Allora, Pongracic ci ha firmato un contratto che lo legherà con i nostri colori fino al 2027, quindi non per una stagione, non per due, ma per ben quattro stagioni e direi che ci siamo portati a casa un difensore di assoluto livello per la categoria. Per quanto riguarda le cifre dell'acquisto, si parla di una cifra minore rispetto ai 2 milioni e mezzo di euro che era la cifra pattuita col Wolfsburg per il diritto di riscatto. Quindi, pur non avendo pagato la cifra in tempo, siamo riusciti a strapparlo per una cifra minore. Quindi veramente genialata assoluta di Corvino e Trinchiera. Ovviamente il suo valore di mercato ha subito un crollo vertiginoso anche a causa dell'infortunio che lui ebbe a dicembre, che praticamente l'ha fatto saltare tutta la seconda parte di campionato, ma adesso ha recuperato fisicamente al 100%, sperando possa mantenersi così per tutto l'arco del campionato. È veramente un bel giocatore, esce benissimo palla al piede, elegante, verticalizza benissimo, potrebbe fare anche splendidamente il mio modo di vedere il regista davanti alla difesa e ovviamente dal punto di vista difensivo anche è tanta roba. Quindi veramente sono contento anche perché nonostante la sua giovane età ha un curriculum interessante, ha esperienza anche nelle competizioni europee, ha giocato col Borussia Dortmund, con il Wolfsburg, comunque squadre importanti della Germania. Quindi averlo a titolo definitivo per una cifra così bassa è stato veramente tanta tanta roba. Adesso la speranza è che possa rimanere anche Baschirotti, in modo tale da formare questo due difensivo roccioso. Su Baschirotto c'è il Cagliari, qualche giorno fa avevo letto di veramente una trattativa a buon punto, poi smentito un po' la trattativa si è raffreddata, ma l'interesse del Cagliari rimane, sicuramente lo punterà quest'estate, quindi dobbiamo cercare di trattenerlo, a meno che non arriva proprio un'offerta che non si può rifiutare. Ma secondo me il Lecce non deve cederlo a una squadra con cui deve lottare per salvarsi. Dovesse arrivare un'offerta di una Juventus, di un Inter, ok, ma non di una squadra tua e rivale per la salvezza, ecco. Penso che abbiate capito quello che voglio intendere. E poi ovviamente si deve puntare al portiere, si era parlato di Bartolomei Drongoschi, ma la pista un po' si è raffreddata, visto che è arrivato l'interessamento di squadre economicamente messo meglio di noi, anche dall'Inghilterra, eccetera, eccetera. Quindi i tre portieri che il Lecce starebbe puntando sono Terraciano, Sepe e, un po' più defilato, Carne Secchi, che con Musso in partenza dovrebbe essere il titolare dell'Atalanta, quindi per questo è un po' più defilato, quindi è da capire la situazione. E ovviamente anche bisogna puntare l'attaccante. Si era parlato questa mattina di un interessamento delle squadre arabe per Assan Cissé, vedremo un po' cosa succederà. Io vi ringrazio per aver visto questo video, forse a Lecce sempre, e ci vediamo in un prossimo video sul calciomercato. Ciao a tutti!